All'improvviso mi trovai annanza a finestra a monogrellimo. VADATTEEN! Uffa! Salvatore, rispetta la famiglia! Non vuoi capire? Non mi devi chiamare, Salvatore! Io sono donna! Continua a difendere il tuo figlio, lui e le sue schifone amicizie! Chi c'è là? Mi sento la famiglia, non sono mai la famiglia, non sono né carne né pesce. E che sei? Che so? Una bugia. Stai ancora sognando che uscivi di casa col velo da sposa, il buco in mano? E quanti figli li facevi? Quattro, cinque? Chi le non trovi stile? Io ti amo. Non lo siena. Quanto è bene! Alle otto del mattino, già state così! Non bere quell'acqua! Ti stanno invisibili pesci tropicali maledetti dentro! Muore subito! Mi devi aiutare. Solo tu lo puoi fare. Posso fare qualche cosa per te? Voglio godere! Voglio un uomo! Vi faccio venire i brividi per le carni. Qua sopra faremo allevamento, agricoltura biologica, specialità. E non significa niente. Tu per la psicologia ufficiale sei una criptochecca. Una criptochecca? Una criptochecca. Più tosto che tornare giù, perché il signor si vola più. Wie? Riadita. Mi negoziers lo giocare! Quennesker con ballare. Come è sbagliare vorabile? Oh! ah! Ma che? Chi io? Grazie a tutti.